Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa sedicesima puntata del podcast di Marcosbox. Anche questa settimana poche notizie, ma buone. Cominciamo con la prima notizia e cominciamo con parlare di Audacity. Il team di sviluppo ha annunciato il rilascio della versione 2.3.2. La grande novità di questa release è che praticamente viene preinstallato il codificatore mp3 lame, che in passato bisognava scaricare a parte per questioni di copyright e licenze. Adesso sono scadute quindi non ci sono più problemi. Se utilizzavate su Ubuntu e derivate il reposito rimantenuto da Pantagim, non dovreste notare differenze perché quell'encoder veniva preinstallato dalla versione presente nei repository di quel PPA. Quindi noi utenti Ubuntu eravamo già coperti. Passiamo adesso a parlare di Firefox. Nelle scorse settimane come ben saprete c'è stato tutto quel casino per quel certificato scaduto che ha usato il blocco dell'esecuzione e dell'installazione di addons su Firefox. L'inconveniente poi è stato risolto sia lato desktop che lato Android con delle minor release di Firefox, però chi aveva versioni vecchie, dalla 57 alla 60, si è trovato scoperto, si è trovato nell'impossibilità di avere una soluzione. Quindi che non poteva aggiornare, non poteva beneficiare della funzionalità studi, gli studi di Firefox che in un primo momento è stata utilizzata questa funzionalità per veicolare una pezza. C'è stata grande protesta da parte degli internauti che sono costretti a utilizzare per vari motivi versioni vecchie non più supportate di Firefox e Mozilla ha deciso di accontentarli e di rilasciare una estensione che va a installare un nuovo certificato di sicurezza che consente di riattivare l'estensione ai temi per queste versioni di Firefox. Se installate questa estensione e successivamente decidete di aggiornare, ricordatevi prima che dovete disinstallare l'estensione e poi procedere con l'aggiornamento. Quindi piccola nota di servizio. Passiamo adesso al mondo Android e passiamo sempre di Firefox. Qualche settimana fa erano traperati i primi APK di Fenix, così era stato chiamato, in realtà Fenix è il nome in codice, di Firefox Preview, che cos'è? Una nuova versione in sviluppo del browser di Firefox per Android, pensata per essere utilizzata su dispositivi con schermi grandi, quindi ha tutta una serie di accorgimenti nell'interfaccia grafica che facilitano l'utilizzo con una mano, quindi tutte le varie impostazioni, menu, sono tutti nella parte bassa del display, quindi è ottimo sotto questo punto di vista. Fino adesso, per poterlo installare, bisognava ricorrere a pick-up di terze parti scaricabili da pick-up a mirror, adesso c'è la possibilità di installarlo direttamente da Google Play. Per poterlo fare, sul blog ho pubblicato una guida che spiega come entrare a far parte del programma di beta testing e di essere abilitati per poterlo scaricare direttamente da Google Preview Store. Poi ho pubblicato anche un piccolo video che vi fa vedere il grosso modo come va l'interfaccia utente e quant'altro. A me piace, mi sta piacendo, l'ho utilizzato anche quando erano stati rilasciati i primi APK, lo sto utilizzando adesso dalla versione con il Preview Store. Speriamo, speriamo che maturi in fretta, perché è bene ricordare attualmente le prime versioni non avranno il supporto alle estensioni, uno dei punti di forza di Firefox per Android, però successivamente verrà aggiunta questa funzionalità, quindi speriamo che quanto prima. Parliamo adesso di KDE. Il team di KDE ha annunciato il rilascio della beta di Plasma 5.16, formalmente conosciuta come Plasma 5.15.90. Stanno scurrando tutti quanti i vari orologi con segnalo orario e camion che passano, se sentite rumori non fateci caso. Dicevamo, questa nuova versione di Plasma include una grande novità che riguarda la riscrittura del sistema di notifiche. Adesso supporta la modalità non disturbare, ci sono notifiche migliorate per i processi di trasferimento file, una cronologia intelligente con il raccoppamento, notifiche critiche in app a schermo intero e tante varie cose che migliorano la usabilità. Sono stati fatti poi alcuni ritocchi, tipo il mostra desktop che adesso fa parte della configurazione predefinita del pannello e poi varie cosine qua e là. Vi invito poi a leggere su Marcosbox il changelog completo. Un'altra cosa prima di terminare con Plasma è che è stato anche migliorato il supporto a Wireland con il supporto iniziale a EGL e streams. Per tutti quanti quelli che seguono lo sviluppo di Wireland ci sono novità, novità positive. Ultima notizia della settimana che però non è una notizia, ho pubblicato un video del canale YouTube T-F-I-R, non so come si pronuncia, lo leggo come se fosse un acronimo, lo leggo in questo video è stata fatta una intervista a Mark Shutterwork, il patron di Ubuntu e gli è stata posta la classica domanda che tutti quanti ci poniamo, come mai Linux su desktop ha fallito? Mark dà la sua personale risposta, si parla di frammentazione, del fatto che non esiste un desktop perfetto per tutti, si parla del fatto che il pubblico attuale è di nerd, di ingegneri che vanno a personalizzare quindi per quello che per me va bene, quello per un atto non va bene e quant'altro. Mark fa anche una dichiarazione piuttosto forte che condivido in parte, che c'era diciamo così, loro volevano fare grandi cose con Unity però la comunità non li ha lasciato fare, questo è parzialmente vero, perché è parzialmente vero? Perché ricordiamoci quel periodo in cui c'era Unity, la comunità si era ampiamente divisa, da una parte c'erano i sostenitori di Canonica, di Ubuntu, di Unity, dall'altra parte c'erano tutti quelli che godiavano, che dicevano che aveva causato scompiglio, aveva causato un disperdimento delle risorse e quant'altro. Come ripetuto anche da Mark, secondo me è stata un'occasione perduta, perché comunque le potenzialità c'erano, ancora adesso quelli layout, quelle impostazioni, sono impostazioni che molta gente va a ricercare anche con le varie estensioni per Gnome Shell, tant'è vero che le ultime versioni di Ubuntu che sono migrate a Gnome Shell hanno una serie di estensioni che cercano di mimare quanto più possibile l'esperienza utente che si aveva con Unity. Mark poi parla anche della convergenza, che era un'idea vincente, tant'è vero che aziende come Apple entro un decennio di sicuro faranno avvenire la convergenza tra iOS e macOS, quindi è stata un'occasione sprecata, non ci abbiamo creduto, non ci ha creduto a sufficienza nemmeno Mark a finanziare il tutto, però purtroppo il problema della diffusione di Linux è sempre quello, non abbiamo un riferimento, non abbiamo standard di riferimento, c'è molta dispersione, la gente difficilmente fa il passaggio, le applicazioni che ci sono, sì, molte sono buone, ma molte non sono all'altezza delle controparti proprietarie, e non tutti diciamoci lo possono utilizzare Linux per la propria vita lavorativa, se siete programmatori potete utilizzare tranquillamente Linux, se come me lavorate in altri settori avete grosse difficoltà perché non avete un card decente, non avete accesso a software della pubblica amministrazione, non avete tante cose che vi servono nella vita professionale, quindi siete costretti, vostro malgrado, a migrare su, a utilizzare Windows per la vita lavorativa, però questo è un cane che si morde la coda, da mancano utenti, se mancano utenti mancano sviluppatori, se mancano sviluppatori mancano la possibilità di attrarre aziende di terze parti, perché se non c'è abbastanza base utente, difficilmente sviluppatori di terze parti si dedicheranno allo sviluppo di applicativi per Linux, ci sono, per esempio io sono rimasto stupito dal fatto che molti software di firma digitale funzionano per Linux, quello che utilizzo io viene rilasciato sotto forma di pacchetto DEB, però, torniamo sempre a bomba, viene rilasciato soltanto sotto forma di DEB che funziona ed è compatibile soltanto con Ubuntu e derivate e Debian, se siete su altre distribuzioni vi attaccate, e non potete lavorare, ad esempio, non potete firmare digitalmente i documenti, appunto, perché i sviluppatori di terze parti si trovano a dover realizzare applicazioni compatibili con diverse versioni di Linux, quella LTS, quella più stabile, quella aggiornano i pacchetti continuamente, quindi si trovano spaisati. Per me la pezza a cui vorrei sarebbe stata, e anzi, SNAP, per me è la chiave di svolta, se si impone l'utilizzo di SNAP, se si afferma l'utilizzo di SNAP, o di fatto PAC, perché no? SNAP, lo vedo, diciamo molto più attrattivo, anche perché viene utilizzato anche da aziende private che rilasciano applicativi SNAP attualmente, sempre più aziende rilasciano grazie a Canonical versioni del loro software nel formato SNAP. Perché? Quello ad esempio consente di avere un install che ti funziona su tutte le distribuzioni, quindi mancano tante cose per far fermare Linux su desktop. Nell'intervista Mark cita anche, fa i suoi complimenti diciamo così a quello che sta facendo Google con Chrome OS, Chrome OS sapete che è basato su Linux attualmente e qualche giorno fa, durante una conferenza di sviluppatori, è stato anche annunciato che tutti quanti i Chromebook che verranno venduti prossimamente offriranno supporto nativo Google, applicazioni Linux, tutti quanti. Quindi, diciamo così, forse, perché poi con Google è sempre meglio mettere le mani avanti, forse Google riuscirà ad affermare Linux sul desktop, a portare Linux sul desktop alle masse. Speriamo, eh, se sono rosee fioriranno, come si dice, se sono cachi. Bene, con questo concluso, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci vediamo la prossima settimana e non mancate di condividere il post, condividere il podcast e di lasciare un commento, soprattutto ci tengo che lasciare un commento su questo post che ho fatto su Mark, su Linux, su desktop, perché ho visto che è piaciuto, è piaciuto, ha suscitato dibattito sia su Facebook che su blog, quindi lasciate un commento, sono molto curioso di sentire la vostra opinione a riguardo. Bene, ciao ciao!